Passo, lastima, io credo che questa rottura di sospensione stava facendo un magnifico rally, no? No, ma sì, siamo partiti molto bene, abbiamo terminato la tappa in testa e anche, devo dire che il ritmo era molto alto, questa mattina siamo partiti bene, tenendo, anche guadagnando un po' i nostri diretti avversari, poi, ma lì è stato in una curva, la macchina si è un po' mossa e mi sono girato, poi, quando è stato tempo di ripartire, ho messo la retromarcia e si è rotta, quindi ho dovuto scendere per spingere la macchina perché ero senza retromarcia, la macchina non aveva assolutamente nulla, però, purtroppo, il tempo che sono sceso e ho spinto la macchina, abbiamo perso molti minuti e la gara, purtroppo, si è compromessa. In linea generale è un buon rally perché, bueno, ha stato liderando durante gran parte e ayer la lucha fu cerrada tra i vostri 4. Del 4? Del 4, Evia, Kopecki. Ah, no, beh, la gara è stata, è molto bella, mi piace molto, gli avversari sono tosti, Evia è molto bene, anche Evia. Il ritmo, ripeto, era molto alto, era facile commettere errori. Noi penso che abbiamo comunque fatto una bella gara, abbiamo dimostrato comunque di saper andare forte ancora una volta, penso. Spero che il pubblico fino a prima si sia divertito, adesso nelle ultime prove siamo andati un po' più tranquilli e quindi spero di aver divertito almeno il pubblico. Certo che sì, molto grazie per essere qui in Asturias, ok? Grazie a voi. Venga, grazie. Grazie a voi. 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 Voi come? Di Perchè cambia la posizione con Nicola, quindi sarà il secondo. Credo che ci perderemo ancora un punto per lui, ma non importa. Grazie. Grazie. Cosa succede nel rallye? Cosa succede nel rallye? Cosa succede? Cosa succedeva un giorno molto difficile. Abbiamo fatto alcuni fattori, alcuni problemi con la suspensione. Mi e Niko sempre avevamo dei problemi. Cosa succedeva con le rimini e abbiamo perduto molto tempo. E oggi avevamo un buon rinno, ma una volta perdono più di due minuti. È sempre difficile per farlo. Grazie mille. Nicola, qual è la tua opinione del rally del Príncipe Asturias? È un rally molto difficile, è abbastanza tecnico. È incredibilmente difficilissimo per leggere la ruota per il livello di grip. Ogni chilometro è cambiato. È molto divertente. Nel momento dopo aver avuto la punctura è stato molto bene. Quindi devo essere felice con la nostra performance. È bene. molto bene. Per me lo leggere... ��고 è stata un ralì di tricks. È un ralì di certo, però è pure rollo. È un ralì di ralì di sin essenza. No, ma tornare. È vero che, con il riportezo che ci ha fatto, è un ralì di ralì di ralì. È un ralì di ralì di ralì? È un ralì di ralì di ralì di ralì. non avevamo nessun susto, nessun pinchazzo e qui siamo per il medio della carretera e pinchavamo, ma che si va a fare Vamos a quedarnos con la satisfazione che non abbiamo potuto vedere a lo largo del anno che arriviamo al ferrol, che consigues la victoria e che qui nel rally, anche se è il rally di casa si è stato rodato per davanti dei migliori di tutto il anno del IRC Si, bene, con questo... No, però bene, hai che quedarsi con questo, total noi nel IRC non andiamo a per il campeonato e andiamo a metà di anno, non andiamo a per il nacional così, hai che quedarsi con i tempi e si sta. Mi immagino che a pesar di ese pinchazzo, di esa p***a piedra parlando malo e castellano, io credo che saci buoni conclusioni del coche, no? Non è che non fu una piedra, non sappiamo dove pinchiamo, se sta la llanta per averla che non sta rosata, non per un lato non sappiamo dove pinchiamo Per recuperare esa moral e sicuramente che a lo largo della settimana disfrutes del grandissimo rally che hai realizzato, vale? Vale, grazie.